I personaggi che erano fuori dalla legge, dalla chiesa e che spesso finivano bruciati, squarciati, eccetera. Però una cosa incredibile è che noi di San Francesco continuiamo, grazie a quello che ha deciso la chiesa 40 anni dopo la morte di San Francesco a generare un santo che in verità non è mai esistito. Il santo che ci hanno proposto, che ci propongono i santi uomini della chiesa è ricostruito appunto 40 anni dopo la morte di San Francesco perché così come veniva narrato da coloro che hanno vissuto insieme a San Francesco e che hanno diviso la fortuna, lo slancio, la passione e anche le persecuzioni, stati veramente con un grande concistoro che è avvenuto in Francia hanno deciso che bisognava buttare all'aria tutto e che una buona metà delle cose narrate dovevano essere cancellate e poi in una seconda verifica si arrivò addirittura a riscrivere quasi completamente tutto. Fu incaricato di questo un santo uomo che poi fu addirittura santificato, divenne dai scori, santificato il quale è andato a braccio dove davano indicazioni di dipingere un santo per tutto particolare e lui andava giù diritto come il sole molte volte copiando la vita di altri santi e inserendo soprattutto una cosa per tutto particolare, le stigmate. Su questo fatto che San Francesco avesse o meno le stigmate, fossero così solte le stigmate addirittura c'è un testo di Chiara Frugoni che è una delle più grosse storiche italiane soprattutto per quanto riguarda San Francesco il quale dimostra proprio senza possibilità di discussione che è un'immensione completa dalla Chiesa e che durante il tempo in cui viveva San Francesco e verso la sua fine soprattutto dove cronisti seri avevano dato indicazioni di quello che era il suo termine della vita non esiste assolutamente nessun accenno a queste stigmate ma poi ci sono, non sto adesso a raccontarvi tutto il testo ma questo è normale per la Chiesa cioè quello di mistificare non sto facendolo anche più ericare in un certo modo io sono a mia maniera sono religioso cioè mi interessa la religiosità del popolo quelli che sono i suoi rinchi, la sua partecipazione la sua curiosità di immaginare quello che c'è dopo una vita là di là con santi oppure con bellezza straordinaria di piaceri e di esaltazione religiosa mi dà fastidio ma non si esagera un po', insomma si fa verso la storiella che deve essere regiaca e che deve incantare, meravigliare i credenti quasi che non basti quella che invece si racconta da parte di coloro che hanno vissuto vicino a San Francesco che io vi dirò è molto più affascinante soprattutto sorprendente rispetto a quella che si è stata mandita per esempio cominciamo a raccontare tutti lo sovciano questo è stato ricostruito uguale e preciso da quelli che erano i testi sa che già erano arrivati a quel tempo per esempio San Francesco era di una famiglia ricca, molto ricca il suo padre era un mercante era una fabbrica oggi diremmo di tele diverse che venivano lavorate commerciava con la Francia, con la Rwanda era uno dei più ricchi della città, era nato San Francesco e la cosa strana è questa che quando San Francesco ha 17 anni succede un capologimento, una rivoluzione l'imperatore che era Enrico VI che era il figlio di Barbarossa ed era l'imperatore proprio acquisito ed elevato dalla chiesa muore giovanissimo mi pare che avesse 18 anni più o meno 20 se non ricordo più ma cosa sta che lascia questo buco spaventoso insomma un'Europa quasi tutt'intiera senza l'imperatore e lì c'erano i conflitti come sempre c'erano i buchi, c'è la successione c'è il problema dei generali che vogliono prendere in mano l'organizzazione credo basta che la cosa sia tutto un buon male ci dicevo di questo bainame che scopla in tutta l'Italia ci sono molti città che approfittano di questa situazione di disordine di scontri, di liti, di fughe, di ammazzamenti per buttare all'aria tutto il sistema si dice fuori tutti i padroni dalla città e soprattutto nasca con la rivoluzione anche il diritto di gestire la nostra città cioè la Repubblica nascono i comuni di nuovo che erano stati cancellati dai nobili e dalla borghesia nascente fatto sta che per esempio la città che sta vicino a 30 km di qua è come si chiama? Gubbio Gubbio? no no non Gubbio doveva Gubbio? Assisi 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 Mario Mario San Francesco da Gubbio suona Mario mi hanno fregata ti ricordavo un po' di Gubbio? ti ricordavo un po' di Assisi no Assisi Assisi perché ero nominato Assisi? Assisi viene preso proprio mano militare dalla gente dell'uomo che non erano soldati rubano le armi ai soldati che in quel momento si erano allontanati dal centro per obbedersi al luogo dove c'era la grande riunione dell'esercito non si erano portati tutte le armi che avevano fatto sta che questi una volta armati non permettono più ai soldati che stanno tornando appresso nella città di rientrare, la bloccano e soprattutto fanno un gesto che era classico di quel tempo e che purtroppo scuola non ci viene mai narrato non ho capito perché ma lo scopriremo abbattono tutte le torri le torri, ogni torre era il simbolo di una casata e quindi i padroni i padroni avevano la propria torre vicino al palazzo ci si fa il palazzo e tutte le città si racconta per esempio che Milano avesse addirittura 60 torri tutti in un anno con il trato che Genova ne avesse altre tante ma la città che in Italia aveva più torri erano due una era Firenze e l'altra Bologna è una città che purulava ecco cominciavano in quasi tutte le città italiane a buttare non avevano mica il territorio o altri esplosivi e quindi a mano legavano centinaia di corde alla cima e a strattoni con centinaia anche di più di giovani di uomini che si appendevano a queste corde e tiravano insieme e la corda e la torre corollava ecco che la verità era quella di evitare di rovesciarsi addosso la torre perintiero quindi c'era un capo che dava gli ordini e che dava i ritmi per potersi anche staccare il momento in cui era pericoloso poi facevano la seconda parte e poi abbattevano la finale naturalmente con delle vede e via dicendo questa operazione che nel dialetto di Umbro si dice scarruccata scarruccata significa biblioteca una torre in questa operazione c'era dentro anche Francesco Francesco un ragazzo aveva solo 14 anni che partecipava cioè si era messo dall'altra parte perché i grandi mercanti i ricchi la borghesia nascente eccetera stava sempre vicino a quello che era la posta il potere e lo gestiva insieme ai nobili e agli aristocratici il fatto di vedere un giovane che è un figlio di uno degli uomini più ricchi della città che si multa dall'altra parte e che realizza un gesto così palese di contrario di opposizione e di rabbia di rancore di liberatorio anche verso tutto il possesso e soprattutto l'imposizione che i nobili davano o realizzavano sui poveri cristi sui minori beh è un fatto già che sorprende tutta questa scena che invece io ho dipinto anche qui fuori c'è un dipinto dedicato a San Francesco è stata cancellata completamente completamente proprio tirata via dalla storia dalla prima storia che noi avevamo allora cioè a noi non è arrivata poi si è ricomposta quasi tutte le storie che più importanti sono tornate di nuovo a galleggiare allora di modo andiamo per oggi questa storia non la incontrate assolutamente San Francesco in quel momento andava per fughi ma non andava per fughi e soprattutto non c'è neanche un'altra cosa che accadde a San Francesco evidentemente durante la scarrucata cadde male arrivò rovesciato dentro le scale a tomborroni come si dice in Lombardia e lo ripresero in mano e questo non sembrava morto insomma era svenuto lo portarono a casa dalla madre e i rumori, i frasuoni, le pietre lo facevano sultare in ogni momento perché continuava mentre portavano a casa c'erano ancora le torri che cadevano eccetera eccetera e lo misero in una cantina perché lì i suoni che arrivavano dall'esterno erano molto più abattati e poteva stare quando si dice che quando ritornò in piedi andava intorno un po' all'occhito e aveva gesti di simpatia verso tutti i piccoli animali che venivano intorno si accorgeva non di tutto di questa città ormai piena di polvere e con pezzi di pietre che ricicolavano dappertutto ma i piccoli uccelli, le ochre, le anatre che passavano e vi dicendo aveva parole di simpatia soprattutto per le formiche che guardava e le seguiva e poi camminando presso a loro solitando si fermavano le ciacci le ho schiacciate quasi tutte questo era uno dei favoretti che si inserirono io nella prima versione che ho fatto di questa opera che sta a memoria come me e ha recitato molto bene anche Mario ebbene raccontava proprio di questa storia ma un'altra raccontavo subito che è quella di San Francesco è passato quasi un anno di tensioni, di scontri naturalmente i nobili di aristocratici e la borghesia voleva rientrare la propria città riprendersela c'erano degli scontri di eserciti non molto numerosi ma sempre importanti che si incontravano, c'erano morti e lui si trovò a combattere dentro l'esercito appunto della Repubblica e in un posto che è proprio più vicino che si chiama Ponte Patto Ponte San Giovanni ci sono sempre un sacco di uomini senza qualcuno che pensasse poi a procurare loro l'acqua a procurare il cibo insomma quelli che avevano fuori dei parenti che si occupassero veramente di loro e che lasciavano giù con delle canne oppure con delle cordie a mangiare per quelli sopravvivevano gli altri, morivano tranquillamente lui non aveva nessuno che si occupasse della sua persona il padre era stato ad una città e era andato da suoi amici che erano mercanti come lui da nobili poi era andato anche dai giudici aveva cercato anche di corromperli, aveva denaro ma non c'era niente da fare nel medioevo i giudici non si facevano corretto è per questo che lo chiamano tempo buio il poveraccio San Francesco stette un anno dentro questa galleria e quando uscì era più morto che vivo non riusciva a stare in piedi era proprio dimagrito uno straccio lo presero lo portarono a casa cominciarono a così non soltanto a nutrirlo ma cercarono di dargli l'amore l'affetto e a fargli coraggio tutti gli amici venivano a paparciarlo a stare di compagnia fin quando piano piano riprese quota però gli arrivano subito qualcosa di negativo addosso nel frattempo era rientrata in città tutta l'organizzazione che era legata all'imperatore i nobili, gli aristocratici che avevano ripreso finalmente i loro territori e imposero costoro che i giovani o gli uomini che avevano abbattuto che erano ben conosciuti che avevano abbattuto le torri non importa a che cedo fossero legati dovevano ricostruirli e allora il povero San Francesco che già stava con difficoltà di prendendo quota ecco che si ritrovò a lavorare un mestiere che non conosceva che era intelligente e soprattutto chi non si dava da fare veniva frustato e dovette il suo malgrado con tutto che era figlio o personaggi cortanti invece non c'era niente da fare e dovette lavorare per un altro anno per ricostruire queste torri e lì imparò intelligente com'era imparò a fare muratore non soltanto ma cominciò anche a capire il rapporto delle tensioni delle contraposizioni diciamo di tensione architettonica quasi un capomastro insomma diventi finita la sua così il suo dovere imposto ecco che esce gli amici eccetera eccetera registrarlo e danza va cose un po' pazze di notte subriaca va donne ragazze e lì una notte tornando quasi all'alba sentono battere delle pentole ed era il segnale che la gente ammalata di come lebrosi 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 sì lebrosi che erano centinaia che non potevano mai passare nelle città quando c'era gente di giorno ma le attraversavano quando erano notte sì e anche i transiti li facevano e questi lebrosi che venivano avanti dando il segnale che stavano passando battendo queste pentole lui è allocchito da queste figure che vengono avanti e non riesce neanche a muovere a scappare come gli altri suoi compagni di avventura che se lo danno a gambe lui rimane lì e gli passano vicino c'è un giovane che cade per terra dai suoi piedi è molto malato pieno di piaghe lui lo prende lo porta a casa propria e chiama un medico il medico dice non c'è niente da fare l'ultimo stadio della sua malattia lui rimane lì vicino lo cura muore e questa morte gli causa una disperazione un dolore incredibile e funge funge sulle montagne che ci sono qui dietro e rimane dei giorni non lo trovano più lo cercano e poi finalmente qualche cacciatore che gira nelle montagne o i contadini danno il segnale e finalmente lo ritrovano dentro un foro della montagna un taglio della montagna che vive così allocchito pieno e piange allora lo portano a casa ecco tutta questa storia che è stipenda via tagliata anche questa poi vi chiederete ma che razza di storia si racconta se toglie via le cose più importanti quelle che hanno determinato in lui uno stravolgimento un pensiero diverso da quello che che era la sua condizione soprattutto di di ragazzo con tutte le possibilità e i mezzi per poter vivere serenamente anche con grande allegrezza bene quando torna nella società è un po' strano c'è quell'incontro molto bello con Cristo lui è dentro una chiesa una chiesa scarruccata anche quella ci manca addirittura l'ingresso è crollato c'è l'abside che è forata i tetti sono messi proprio male è lui che si inchina a raccogliere delle pietre buone ancora ormai è rimasta dentro il tavolo positivo questa volta del costruttore e sente una voce che dice lo chiama Francesco 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 poi finalmente vede che chi parla è un crocifisso che è appeso al muro Francesco ricostruisci la mia chiesa e lui dice sì sì senza prova cercherò di farlo ma come fai a sapere che io sono un muratore anche non si può tenere niente di nascosto qui dovevo essere Gesù che io e poi comincia allora chiama degli amici chiama dei muratori ha i soldi quindi li paga perché li aiutino ma lui non aveva capito l'indicazione che dava Gesù lui pensava che Gesù parlasse della chiesa le mura il tetto la struttura invece Gesù chiedeva che fosse costruita completamente la sua chiesa ed è qui c'è una connessione su quello che si aspettano i cristiani da questo Papa che si chiama Francesco e qualcuno ha ricordato questa scena del dialogo che in certe storie è rimasta come come un 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 lascito quasi della storia originale costruisci ricostruisci la mia chiesa andiamo avanti ancora e c'è c'è tutta la storia stupenda di lui che non ce l'ho avuto decide di lasciare questo modo di vivere si libera degli abiti in chiesa si spogna di tutto quello che ha ricevuto i soldi di tutto e li getta alla madre che piangere disperata è un'altra vita che mi aspetta dice non piangere io sarò felice e tu devi leggere la mia felicità e ridere per la mia felicità anche questo piccolo passaggio tagliato e comincia a muoversi da solo poi c'è qualche giovane che gli viene vicino qualche amico vive un po' con lui pensa a tutti che sia un pazzo ma lui è divertente ride fa capriole fa scherzi gioca racconta storie ridicole dei diavoli che si sbattono la testa una contro l'altra poi racconta del Vangelo e racconta le storie più buffe più ironiche più impossibili del Vangelo e la gente va ad ascoltarlo era un grande fabulatore infatti lui di se stesso a un certo punto dice io sono il giudale a servizio di Dio naturalmente anche tutto questo che vi sto dicendo viene cancellato però perché io vi racconto questa storia e vi racconto il rovescio della storia perché purtroppo già che noi viviamo di tutto quello che è nel nostro mestiere sto parlando di gente che scrive per rappresentare che recita dei testi che cerca testi che siano originali che siano vicino a vita io non so ognuno di voi ha degli interessi particolari io per esempio ho sempre avuto l'interesse di trovare la verità e soprattutto di scoprire la verità laddove mettere menzogna serve a vantaggio dei furbi e degli ipocriti questo è stato il mio strumento cioè ricostruire quella che è una via pulita chiara limpida se era possibile e scoprire soprattutto ogni volta che la realtà quella che è stata nascosta è la parte più bella più d'arte insomma legata alla fantasia all'emozione e molte volte alla onestà alla chiarezza alla giustizia naturalmente qui poi c'è un altro discorso che proprio è dentro San Francesco cioè avere rispetto per gli umili io non sono un francescano non sono ma però sento bisogno spesso io e Franca di intervenire laddove ci sono delle situazioni disperate sono andati centinaia di luoghi dove la gente aveva occupato una volta la casa per poterci evitare una volta la fabbrica perché non volevano essere buttati fuori in altre volte addirittura parti della città perché si intervenisse da parte dei comuni a mettere a posto e soprattutto rendere degno il luogo il luogo dove si abitare il luogo dove si abitare il luogo dove si abitava e poi si siano preoccupati della gente ammalata di asili infantili distrutti dicendo ma non pensiate che io adesso vi racconto per dire quanto sono buono e preoccupato molte volte faccio anche io fatica ad accorgermi e vengo sollecitato ad intervenire a rendermi conto a partecipare civilmente alla trasformazione di cose che ci sembrano indegne va bene per ogni modo è per questo io spero che anche in voi non in tutti ma non si può avere il meglio ma in voi ci sia questo desiderio di giustizia perché è proprio un fatto di giustizia il fatto di che in una società non ci siano i disperati oggi come oggi poi che i disperati sono a caterve e che ci sono delle persone che si suicidano perché non hanno più la possibilità di sentire la dignità non so tanto perché non hanno da mangiare ma perché sono ridotte al minimo di rispetto a quello che è la dignità di un uomo e poi sono perfino dei piccoli imprenditori che con la disperazione di non poter dare lavoro, denaro e sopravvivenza ai propri operai ugualmente si ammazzano e di là abbiamo una classe che ci gestisce soprattutto quella dei politici che non soltanto rubano fanno trucchi proprio distruggono anche la dimensione minima della monestà e della chiarezza e forse sperano che con quello che sta succedendo cambi cambi velocemente questo linguaggio e questo modo di concepire il rapporto, la vita e soprattutto la dimensione civile della nostra vita va bene, mi fermo qua perché se no mi metterò